Bill Cosby è stato incriminato per aver aggredito sessualmente una donna. Dopo tante accuse informali per episodi simili, l'attore dovrà rispondere di questo in tribunale. L'incriminazione ribalta la decisione presa dieci anni fa da un procuratore distrettuale. Il fatto contestato si sarebbe svolto nella Casa del Comico all'inizio del 2004. Quella sera Cosby spinse la donna a ingerire pillole che le aveva procurato e a bere vino. L'effetto fu di renderla incapace di muoversi e di resistere alle sue avance, consentendogli di compiere un'aggressione aggravata. La 78enne Star Day Robinson aveva dichiarato sotto giuramento che il rapporto con la donna era stato consensuale. Il caso è stato riaperto in seguito a nuovi elementi emersi dopo che decine di donne hanno mosso accuse analoghe contro Cosby.